come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico. Quanti anni hai? Undici, nove e mezzo, sette, otto. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il pasta di cera, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguaggiare. Salvo le persone. Che mi piace a me. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue bani. Le occhi, le sue bambini. Le sensibilità sulle capelli. Tutto. E ora, falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora, dalle uno schiaffo. Uno schiaffo. Forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Ce la do. No. No. No? E perché no? Eh? Perché? Lei è femmina. Giova, sono era. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non gliela posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono controlla la violenza. Sì, se anche le donne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono... Dalle un bacino. E la posso dare sulla bocca o sulla guancia? Dalle un bacino. Grazie a tutti.